Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo uno di quei dolci irresistibili. Un dolce che se non avete mai assaggiato prima, beh, vi conviene recuperare al più presto. Oggi prepariamo i fiocchi di neve. Delle deliziose palline bombette di pasta brioche, più o meno, farcite con una crema al latte, panna e ricotta, aromatizzato all'arancio. Sono davvero dei dolci irresistibili e semplicissimi da preparare. Andiamo subito a vedere come si fanno. Prepariamo subito il nostro impasto. Andiamo in planetaria e montiamo il gancio. Inseriamo la farina, metà manitoba e metà normale, lo zucchero semolato, due pizzichi di sale abbondanti, il latte, l'acqua e il lievito. Cominciamo ad impastare questi ingredienti fino a quando l'impasto non si staccherà dai bordi. A quel punto inseriamo il burro morbido, poco alla volta, dando sempre il tempo all'impasto di assorbirlo. Quando avremo esaurito completamente il burro e avremo ottenuto un impasto elastico ed asciutto, lo lavoriamo leggermente con le mani sul piano del lavoro. Lo trasferiamo quindi in una bull e lo impellicoliamo. Lo faremo lievitare fino a quando il suo volume non sarà raddoppiato. Io lo metterò in forno, che ho precedentemente scaldato, ad una temperatura non superiore a 28 gradi. Ci vorrà circa un'oretta e mezza. Quando il nostro impasto ha raddoppiato il suo volume, non ci resterà che porzionarlo della dimensione che preferiamo. Io farò delle piccole palline di circa 30-35 grammi. Pirliamo quindi il nostro impasto e mettiamo le nostre sfere su una placca ricoperta di carta da forno, che faremo lievitare sempre in forno caldo, per circa 45 minuti. Nel frattempo prepariamo la farcia. Cominciamo dalla crema al latte. In un pentolino inseriamo il latte e lo zucchero semolato. Facciamo scaldare a fiamma dolce fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto. A quel punto inseriamo la maizena. Con un cucchiaio continuiamo a mescolare a fiamma dolce fino a quando la crema non si sarà addensata. Ci vorrà poco, massimo 10 minuti. A quel punto trasferiamo la nostra crema di latte in una bowl. La impellicoliamo con la pellicola a contatto e la facciamo raffreddare. Quando andremo a riutilizzarla servirà ben fredda. Il secondo ingrediente per la nostra crema sarà la ricotta, che andremo a setacciare per togliere eventuali grumi e renderla bella liscia. Aggiungiamo poi la scorza di un arancio oppure di un limone, come preferite, e la lasciamo momentaneamente da parte. Giusto il tempo di montare della panna e dello zucchero in planetaria, ovviamente con la frusta. Uniamo quindi la panna appena montata con la ricotta precedentemente setacciata. Mischiamo bene i due composti e conserviamoli in frigorifero. Nel frattempo il nostro impasto sarà perfettamente lievitato, quindi lo cuociamo in forno a 180 gradi per circa 10 minuti. Si deve appena appena colorare. Quando sarà ben cotto lo facciamo raffreddare e concludiamo la nostra crema. Infatti anche la crema al latte sarà ormai raffreddata e della stessa temperatura della ricotta e della panna. Quindi uniamo insieme i due composti. Mescoliamo con un cucchiaio, non con la frusta. Con l'aiuto di una sac a poche quindi farciamo i nostri fiocchi di neve con la crema che abbiamo appena preparato, fino a riempirli completamente. Non ci resta che decorare i nostri dolci con una bella spolverata di zucchero a velo. I nostri fiocchi di neve sono pronti per essere consumati. Grazie a tutti. Ed ecco qua i miei fiocchi di neve. Avete visto? Semplici perché alla fine un impasto è molto molto semplice. Io ho utilizzato la planetaria ma si può tranquillamente fare a mano. La crema all'interno è semplicissima. Basta semplicemente aspettare che si raffreddi quella di latte e sono irresistibili. Dovete assaggiarli morbidissimi e poi la crema dentro è una bomba di esplosione di sapore. Davvero fateli e vi assicuro che non me ne pentirete. Qui sotto come al solito troverete tutto quello che serve per poterli preparare a casa anche voi. E mi raccomando qualora dovesse esservi piaciuto il video lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!